Ehi tu, hai problemi di forfora? Usa Claire! Chiky Chak! Sono come Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo è un calciatore portoghese, attaccante del Real Madrid, capitano della nazionale portoghese e fondatore del movimento Pro Forfora. Il suo nome riprenderà quello della madre, con la sostituzione però di Maria Dolores in Cristiano Ronaldo. Il nome Cristiano è dovuto alla fede cristiana della madre, anche se il tedono figliolo smadonna ogni qual volta il più importante rivale, Lionel Messi. Lo supera nella classifica marcatori, mentre il secondo nome Ronaldo fu scelto in onore di Ronald Reagan, attore prefetto del padre, presidente, all'epoca, degli Stati Uniti e clan più famoso del mondo. Infatti cambierà il nome dopo aver fondato una delle catene più importanti della storia. Diventerà appunto Ronald McDonald. Cristiano Ronaldo ha un fratello, Hugo, e due sorelle, Elma e Liliana Catia. E sordisce nel calcio professionistico durante la partita Sporting Lisbona-Inter, valevole per il terzo turno preliminare della Champions League 2002-2003. Allo Sporting conquisterà 25 presenti in campionato, di cui 11 da ettolare prima di essere trasferito al Manchester United. Appena prodato ai Red Devils, Ronaldo chiede di indossare la maglia numero 28, per evitare le troppe pressioni della maglia numero 7. Fino ad allora ad assegnare ai più grandi campioni dello United, compreso David Beckham. Ronaldo però non fece i conti con i voleri di Sir Alex Ferguson, allenatore dei Red Devils, che gli disse esplicitamente Al Manchester United si renderà protagonista di molte stagioni insieme al suo compagno di squadra e amante segreto Wayne Rooney. Sigla inoltre i suoi primi gol in Champions League della stagione 2006-2007 nella famosissima partita Manchester United-Roma, finita 7-1 a favore dei Red Devils. Dopo il match verrà picchiato e minacciato di rassatura dei capelli da Francesco Totti e da Lillian De Rossi. Un anno più tardi conquisterà il primo pallone d'oro della sua carriera. La sua avventura al Manchester United però è destinata a finire, infatti l'11 giugno 2009 verrà sceluto titolo definitivo al prezzo di 94 milioni di euro, 80 milioni di sterline, a Real Madrid. Quest'ultimo successivamente fissa la clausola del decisore del giocatore ad un milione di euro. Passerà gli anni ai Galacticos dal protagonista, regalando gol, emozioni e tante ammazzate con Lionel Messi. Di particolare importanza è il titolo conquistato insieme ai Galacticos nel 2013, ovvero la decima Champions League. Ha vinto diversi premi individuali, dei quali i più importanti sono FIFA World Player 2008, 3 palloni d'oro, 2008, 2013, 2014, miglior giocatore UEFA europeo, 2013-2014, miglior attaccante dell'anno per club UEFA, 2007-2008, scarpa d'oro, 2007-2010, 2013-2014, virginità di Raffaella Fico, pagata a ben 500 mila euro. Era il periodo nel quale Raffaella Fico mi sembra vendita la sua virginità e lui, beh, ehm... CRISTIANA CHE MIGAN BENE!